Carissimi fratelli e sorelle, innanzitutto buon Natale. Abbiamo ascoltato il meraviglioso testo del prologo del Vangelo di Giovanni, l'inizio, e abbiamo anche noi detto, e il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E quel Dio che è invisibile si è rivelato in Gesù, in Gesù fatto carne, fatto uomo, entrato nella nostra storia. Perché il Natale è storia, non è una una storia, non è una leggenda, magari per dare un'interpretazione morale all'uomo, non è un messaggio consolatorio per momenti di particolare tensione o difficoltà. No, il Vangelo è la storia dell'umanità, ed è storia drammatica quella dell'umanità, e raccoglie in qualche modo tutta la nostra tragedia, dall'inizio, da quel imprincipio che sappiamo segnato già fin dall'inizio, dall'origine, dal peccato e dal male che odia Dio, fino alla rottura tra Dio e creato, tra l'umanità e Dio, fino, possiamo dire, alla pandemia, che stiamo noi, la nostra generazione, sperimentando e vivendo. Il Natale è storia in Gesù della tragedia dell'umanità. Il Natale è una storia che si fa lotta, potremmo dire, quasi guerra. E il prologo di Giovanni ce l'ha chiarito molto bene. È una lotta, è una guerra continua, tra la luce e le tenebre. In greco, tra fos, luce, e scotia, tenebre. Parole ripetute continuamente nel testo che abbiamo ascoltato. La luce è pochissima, quella di Natale. Fondamentalmente l'abbiamo sintetizzata ed espressa in una stella, la stella dei magi che contempleremo all'Epifania. Ma è sufficiente per potersi orientare, per chi alza lo sguardo e la trova. Le tenebre saranno abbondanti, fitte, cercheranno sempre di sopraffare la luce. Ma non ce la faranno mai. Basterà quella piccola stella a riorientare. È per questo che la celebrazione principale del Natale la viviamo nella notte, come la più grande celebrazione del cristianesimo, che è la Pasqua, si concentra nella veglia della notte di Pasqua. In questa lotta e guerra storica, tra la luce e le tenebre, tra il bene e il male, tra l'immagine di Dio nell'uomo in Cristo, e in noi è tutto ciò che la vuole sopraffare e sconfiggere. In Natale, in questa situazione storica, in questa storia, appare quasi la sconfitta di Dio. Nella Messa della Notte e in quella dell'Aurora di Natale, si legge un testo della lettera di Paolo a Tito, l'ultimo testo di San Paolo. In quel testo si dice che è vero, appare la grazia di Dio, e si vuol manifestare, ma è in qualche modo bloccata, bloccata dal male. E allora che fa? Il Signore, il Dio, è costretto a consegnarsi, a dare se stesso in mano all'umanità. Il verbo che Paolo usa, edochen i peremon, dato per noi, consegnato per noi, è lo stesso termine che gli Evangeli utilizzano per dire il tradimento di Giuda e la consegna del Maestro di Cristo in mano all'umanità e ai Suoi carnefici. Natale ha già all'origine quasi questa sconfitta di Dio, ma è la sconfitta del grano, del chicco di grano che caduto in terra marcisce e muore, ma per rinascere glorioso e diventare spiga. Dio si consegna così a noi. Lo ha fatto Lui per primo in Gesù e Gesù ci consiglia, ci indica questa strada, la strada del chicco di grano che cade in terra e muore per raggiungere la salvezza. Dio si è consegnato dal Natale nelle nostre mani, si è consegnato nelle mani purissime di Maria, ma poi anche si consegnerà in quelle di Giuda e dei Suoi carnefici. Il Natale ha già in sé in quella grotta di Betlemme, in quella piccola luce ha già in sé anche l'ombra che si allunga della croce. Il Natale non ha bisogno di grandi parole, anzi, ha bisogno di un'unica parola, Gesù. Perché la parola Gesù, Cristo, si è fatto carne, è diventato carne. Allora non c'è più bisogno di gran che, non c'è più bisogno di grandi discorsi, nemmeno di questo mio tentativo Dio Melia, c'è bisogno di accogliere nella nostra carne questa parola, c'è bisogno di diventare carne come la sua per dare testimonianza e vita. sempre se ascoltavamo il testo della lettera a Tito di cui ho detto prima, avremmo anche ascoltato questa parola. Dice Paolo, apparirà la bontà, la benevolenza e l'amore e l'amore del prossimo. Il testo però tradotto con bontà in greco è originale ed è molto bello è Christotes che dice Cristo. La benevolenza è trasformare noi stessi in Cristo. è facile? Forse no, ma è un cammino possibile. Se ci trasformiamo facciamo di noi e in noi i sentimenti di Gesù. Saremo veramente quella benevolenza e quell'amore al prossimo che dice la parola unica il logos che si è fatto carne la nostra carne la nostra vita diventerà in qualche modo cristificata simile a Lui al suo comportamento ai suoi sentimenti ai suoi atteggiamenti. Entreremo in quella che possiamo chiamare la cultura della cura il Natale è essenzialmente cultura della cura. Maria accoglie il figlio lo avvolge in fasce lo depone in una mangiatoia non c'era altro ma inizia l'immagine della cura. Termine che questa pandemia ci ha riportato fortemente alla nostra attenzione e al nostro impegno al nostro dovere. Dobbiamo renderci conto che la vita nasce dalla cura parte dal fatto che qualcuno si prende cura e questo qualcuno è innanzitutto Dio con la creazione e poi lo affida all'umanità alle culture che si prendono cura ma ognuno di noi poi è chiamato crescendo dopo aver sperimentato di essere stato curato accudito ha bisogno di prendersi cura del prossimo della creazione e degli altri e questo prendersi cura è l'amore che ci fa uscire e ci esalta in qualche modo è l'esperienza dell'estasi vi voglio leggere e ho portato il breve testo scritto quanto dice Papa Francesco nell'ultima enciclica fratelli tutti al numero 88 è un numero breve ma fondamentale per questo atteggiamento della cura e credo per oggi per la situazione che viviamo dice così dall'intimo di ogni cuore ogni cuore tutti l'amore crea legami e allarga l'esistenza quando fa uscire la persona da se stesso verso l'altro il Natale è questo è Dio che è uscito da se stesso in Gesù ed è venuto verso di noi verso l'altro che è l'umanità e la creazione continuo al Papa siamo fatti per l'amore la carne che dobbiamo rendere amore l'amore non è un sentimento qualsiasi ma è un modalità di essere concretamente presenti nel mondo con la nostra fisicità e carne verbum caro factum est la nostra vita deve farsi questa carne di Cristo dice il Papa ancora siamo fatti per l'amore e c'è in ognuno di noi una specie di legge di estasi legge di estasi e qual è questa legge dell'estasi uscire uscire da se stessi per trovare negli altri un accrescimento di essere l'estasi non è quello che ci solleva in alto in chissà quale fantasia staccandoci dalla realtà no è quello che ci fa uscire dal nostro egoismo ed individualismo ed incontrare gli altri e gli altri e l'altro che è Dio nel volto dei fratelli e delle sorelle prendendoci cura e questo accresce l'essere perciò in ogni caso l'uomo deve pure decidersi una volta per tutte ad uscire d'un balzo da se stesso ecco mi sembra che questo breve numero 88 della meravigliosa enciclica Fratre Somnes ci dia e ci dica veramente il segreto del Natale l'estasi questa legge che Dio ha vissuto per noi e che rende possibile a noi di fare della nostra vita una vita cristica simile alla sua allora non lasciamoci rubare la luce del Natale anche se è piccola se è poca non lasciamoci rubare la gioia del Natale anche se viviamo una situazione che ci porta ad altri sentimenti ma diciamo il Vangelo come gli angeli che annunciano una grande gioia che è per tutto il popolo e che abbiamo ascoltato e contemplato nel presepio lasciamoci contagiare da questa luce e da questa gioia che sono il contagio del Natale e diventeremo tutti capaci di tenerezza che il Signore allora insegni ad ognuno di noi a vedere con i suoi occhi ad ascoltare come lui ascolta a parlare come lui parla a diventare nella nostra carne simile alla sua carne della parola grande e allora passerà ogni situazione di male e diventerà luce e contagieremo con l'unico contagio che veramente può salvare che è quello dell'amore della pace e della tenerezza che il Signore che questo Natale segnato dalla pandemia ci insegni questa verità Amen grazie a tutti a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti